Sarà un tecnico e non la politica ad avere l'ultima parola sulle tanto contestate strisce blu. A deciderlo l'amministrazione comunale di Sernia che attraverso una delibera di giunta ha dato mandato ad un avvocato esterno, un esperto del settore, di redigere un nuovo piano urbano del traffico. Come fare a non tener conto dell'accordo tra il comune di Sernia e la G-Mobilità, stipulato nel 2018 e che prevede la gestione delle strisce blu per 15 anni, dunque per altri 11? Molto semplice, basta partire dalla radice del problema, ossia dal già citato piano urbano del traffico. Quello attualmente in vigore, che prevede l'istituzione dei parcheggi a pagamento, risale all'anno 2000. Un documento ormai che a detta dell'esecutivo guidato da Castrataro appare superato in quanto le condizioni socio-economiche del capologo Pentro da allora sono radicalmente cambiate. La congiuntura economica e il periodo di difficoltà a livello nazionale e internazionale richiedono una nuova valutazione dell'interesse pubblico, motivo per cui, dinanzi a una popolazione sempre più povera, l'unico rimedio sarebbe quello di eliminare le soste blu. Quante volte avete fatto questo gesto? Beh, chi l'avrebbe mai detto che grazie alla pandemia, la crisi economica e addirittura la guerra in Ucraina, gli Isernini potrebbero risparmiare perché sono proprio questi elementi che potrebbero portare all'abolizione dei parcheggi a pagamento a Isernia. Insomma, con un piano del traffico senza parcheggio a pagamento, secondo la Giunta andrebbero a decadere tutte le condizioni per la gestione degli stessi. Ma le incognite sono ancora troppe, anche perché la decisione sulle soste blu è nelle mani di un tecnico esterno e appare, quanto mai paradossale, considerato che l'abolizione di queste ultime è stato uno dei cavalli di battaglia durante la campagna elettorale che ha sancito la vittoria del centrosinistra. Inoltre la J-Mobilità è tutt'altro che intenzionata a farsi da parte, anzi continua a battere cassa, chiedendo al Comune, attraverso un decreto ingiuntivo, una cifra di oltre 360 mila euro per il mancato pagamento delle spettanze relative alle multe effettuate in questi anni. Dal canto suo l'amministrazione comunale lamenta la società non ha mai versato il canone di concessione, un batti e ribatti in cui a rimetterci nemmeno a dirlo sono i cittadini. Oltre al danno anche la beffa, perché non solo il Comune avanzerebbe dalla società che gestisce le soste blu, una cifra vicina ai 600 mila euro, ma ora quest'ultima ne chiede oltre 350 mila per la quota delle multe erogate in questi anni. Ricordiamoci che stiamo parlando sempre di soldi dei contribuenti. La battaglia per l'abolizione delle strisce blu dunque appare molto lunga e piena d'ostacoli. Da anni ormai gli serdini attendono dei chiarimenti sul circa mille parcheggi a pagamento presenti in città. Davvero un nuovo piano urbano del traffico potrebbe rivelarsi la soluzione giusta? Perché la giunta comunale non ha affrontato la situazione di petto, demandando una decisione così importante a un avvocato esterno? Siamo davanti all'ennesimo scaricabarile? La speranza è che almeno questa volta alle chiacchiere seguano i fatti e non altre chiacchiere. E in attesa di buone notizie la domanda viene spontanea, ma qualcuno non ci poteva pensare prima?